Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Mera Mera, io sono Marra, oggi siamo tornati con i contenuti perché sono usciti finalmente gli spoiler del capitolo 1091 di One Piece. Sono usciti un giorno prima perché solitamente escono le lunedì sera, invece questi sono usciti la domenica sera, oggi è lunedì mattina e quindi è giusto parlarne secondo me. Ricordatevi che sono early spoiler, quindi poche ufficialità anche in questo caso, soprattutto perché sono usciti molto presto. Quindi direi di cominciare ragazzi e cominciamo parlando del fatto che secondo il Licker la questione Zoro e Sanji diventerà un po' più tossica di quanto già lo è, perché già lo è effettivamente. Però a quanto pare in questo capitolo viene detto semplicemente che Sanji non riuscirà a fare niente contro Kizaru, non riuscirà a fermarlo. E una mega informazione super importante che c'è in questo capitolo è semplicemente che avremmo Luffy contro Kizaru e Zoro contro Lucci. Questa a quanto pare sarà l'inizio del climax di Egged, quindi in poche parole l'inizio della grande battaglia, di questo grande incidente. Vediamo che Kizaru farà anche un attacco che sembra anche rivaleggiare un pochettino come viene detto proprio dal Licker, per esempio Galaxy Impact di Garp. Quindi sarà un attacco fortissimo. In poche parole ci faranno vedere la potenza di Kizaru e viene anche specificato, diciamo, che, anzi viene fatto intendere che Kizaru è l'ammiraglio più forte. Quando si intende ammiraglio più forte comunque credo che si intenda semplicemente tra Fugito, Rariokuglio e Kizaru. E la cosa ci sta perché comunque stiamo parlando di un fruttoroggia incredibile e anche di sicuramente l'ammiraglio più veterano, diciamo, tra i tre. A quanto pare Kizaru sa utilizzare l'aki avanzato dell'armatura ed è più forte di quello di Sentomaru. Di fatti in pochissime vignette viene detto che Kizaru riuscirà a sconfiggere tranquillamente Sentomaru e Kizaru si muoverà per andare a catturare i vari Mugiwara. Quindi vediamo i Mugiwara che corrono, intanto la marina sta distruggendo le bestie, le creature che stavano circondando Egged. Questa è una situazione che a me per esempio ricorda un pochettino, ditemelo voi, l'arcipelago Sabaudi. Sì, con Kizaru che è dalla caccia di pirati in particolare a tutti i membri dei Mugiwara. Sta succedendo anche qui. Poi gli ultimi aggiornamenti ci dicono che semplicemente Lucci proverà a uccidere Vegapunk ma sarà Zoro a fermarlo. In più vediamo che Franky, Bonnie e Lilith rimarranno nei pressi della Sunny per cercare di proteggere la Sunny e Vega Force 1. E poi l'unica notizia che veramente è un po' è un fulmine a ciel sereno, ovvero che ci sarà pausa la prossima settimana. Questa è una cosa veramente straziante perché ragazzi abbiamo avuto il mese di pausa e poi letteralmente tutti i capitoli che ci sono stati hanno avuto la pausa dopo. Non tutti forse, però io mi ricordo dal 1089 fino al 1091 che è oggi abbiamo avuto questa situazione di capitolo, pausa, capitolo, pausa, capitolo, pausa. Evidentemente, questa è un'ipotesi, sono dovute anche al live action, queste pause, non tanto alla realizzazione dell'live action ma magari a quello che c'è dietro. Quindi magari andare agli eventi, occuparsi di certe cose, di certi movimenti, anche di marketing. E quindi credo che sia dovuto anche a questo, poi ci abbiamo messo di mezzo comunque il ferragosto giapponese, abbiamo avuto in mezzo tantissime robe. Però è così, ci sarà pausa la prossima settimana. Ma almeno noi la prossima settimana ci vedremo più spesso perché uscirà un format proprio dedicato all'live action ma ne parleremo magari più avanti. Detto questo ragazzi, grazie per aver visto questo video, io sono Marra, vi aspetto con altri contenuti del tema One Piece come al solito, vi ricordo di prendere sempre queste informazioni con le pinze. E noi per il capitolo ci dovremmo vedere intorno a giovedì. Quindi mi raccomando, fate i bravi, iscrivetevi e noi ci vediamo. Ciao a tutti. Ciao a tutti.